volti al futuro è un programma che ti porta nel mondo delle idee quelle degli altri su radio serena punto net è ormai un appuntamento settimanale qui su radio serena punto net con dei personaggi che hanno a che fare con una visione futura come no questi personaggi sono particolarmente legati a un volto proiettato nel futuro e quindi parliamo di cose concrete molto belle eleganti piacevoli insomma oggi abbiamo un personaggio che innanzitutto è un amico si chiama Giuseppe Donghi è ormai conosciutissimo dal pubblico che ci ascolta perché non è la prima volta che viene a trovarci in radio ma soprattutto perché ha esposto e continua a farlo numerose opere lui è un pittore e le sue opere sono sparse in tutta Italia anche in Europa e attualmente gestisce anche una scuola di pittura di cui è fondatore a Brenna insomma abbiamo tante cose da chiedergli no Maria sì tante cose chiedere a Giuseppe che torna da noi e tutte le volte vogliamo sapere le ultime novità e le cose tra un anno e un altro cosa ha combinato cosa ha fatto cominciamo con la bellezza allora la pittura è una forma d'arte che cura la bellezza per bellezza intesa non tutto con i canoni in certo modo ma la bellezza la parte bella intesa in tante maniere e qualcuno ha detto e anche scritto la bellezza salverà il mondo quanto credi in questo motto e cosa fai per salvare il mondo attraverso la tua pittura ma non solo la bellezza salverà il mondo ma la cultura l'arte salverà il mondo perché è l'unica forma la cultura per esempio ci rimanda alle nostre tradizioni ci rimanda al nostro essere alla nostra espressività di ognuno che tutti insieme in un campo nell'altro comunque sempre nell'arte nella bellezza nella cultura in generale può salvare il mondo perché se parliamo di politica la lasciamo perdere stiamo vivendo in un momento in cui tutti abbiamo sotto gli occhi quello che sta succedendo quindi se fossimo noi per primi a cominciare ad acculturarsi a sapere che certe cose vanno contro di noi e andranno a disfare questo mondo sarebbe una bellissima cosa bellezza compresa arte compresa cultura compresa che cultura non vuol dire solo arte ma appunto quello che ho detto prima il nostro vivere quotidiano il nostro essere le nostre tradizioni la nostra storia la nostra storia che è una tra le più belle del mondo diciamo anche come sviluppo fino dall'antichità dall'epoca romana fino ai nostri giorni e quella dovrebbe essere da esempio per tutti allora torniamo un po' alla tua pittura dal punto di vista specifico di cosa dipingi mi dispiace che gli ascoltatori non possono vedere le tue opere però possono andare sul tuo sito intestato appunto a Giuseppe Donghi per andare a vedere una carrellata di tele che tu hai dipinto e per capire di cosa stiamo parlando e voglio chiedere a te no le tue tele sono particolari ogni cosa che dipingi racconta una storia e c'è sempre un messaggio dietro non sono mai paesaggi fini a se stessi per la loro bellezza ma c'è sempre un significato dietro e c'è del surrealismo perché vediamo le biciclette che volano i monti che non sono piazzati per terra una nebbia e poi c'è il chiarore subito dietro ci sono delle cose insieme allora attraverso questo surrealismo esci dalla realtà o racconti meglio la realtà che stiamo vivendo e che tu vivi in prima persona con la tua emotività la mia arte innanzitutto è fatta per durare nel tempo non non seguo nessuna moda nessuna perché poi le mode passano no e oggi il mercato dell'arte è guidato come quello della musica come quello di di ogni tipo di arte no è guidato da chi può sfruttare meglio al meglio per sé e lanciare un determinato tipo di arte che poi passerà a breve in pochi anni e ritornerà un nuovo tipo di arte questo non sarebbe male se fosse arte ma la maggior parte dei casi non lo è e qui lo affermo e invece io ho studiato come dicevo prima con un maestro tedesco e professore dell'Accademia di Monico di Berlino che l'arte può essere ancora come quella di una volta cioè fatta bene con lo stile con le tecniche curando le prospettive curando tutto quanto e riportarla al giorno d'oggi cioè una volta raccontavano il loro mondo e io racconto il mio ecco che allora il realismo o molti punti di surrealismo che mettono ad aggiungere al mio realismo diventa attuale e quindi un'arte che racconta i nostri tempi dietro c'è sempre veramente una storia adesso sto raccontando quella dell'emancipazione della donna del femminicidio di tutta questa cosa qua che purtroppo negli anni non è mai cambiata e io in arte in pittura e quindi nelle serate che faccio dedicate all'arte ci metto anche questo argomento ma anche tutto ciò che mi circondo quello che vedo da lì nasce una storia e da lì nasce un quadro ecco perché i miei quadri sono particolari e riconoscibili perché 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 raccontano il quotidiano con un'arte che non era più di moda perché dicevano che la fotografia avrebbe distrutta o distrutto l'arte no la fotografia ha stimolato l'arte perché sono due arti la fotografia un'arte la pittura un'altra arte che si assomigliano per quanto riguarda l'immagine il soggetto no la bellezza l'estetica anche no cioè solo la bellezza il racconto nel bene o nel male no e quindi il pittore se ha in mano gli strumenti per poter realizzare ancora realismo come quello di una volta e portandolo ai nostri giorni ecco che diventa di nuovo di moda perché sfida la fotografia sfida il racconto fotografico attraverso l'emozionalità di ogni di ogni artista che dipinge sulla tela ecco torniamo all'attenzione di ogni artista il fatto che tu guidi una scuola di pittura in cui ci sono la media di 30 allievi e e non insegni solo la tecnica in questa scuola da quello che ho mi è sembrato di capire perché ognuno deve tirar fuori la sua originalità la sua unicità in più volevo farti chiederti che tipo di scuola è cioè è una scuola cattedratica o si creano delle amicizie delle conoscenze è una scuola di vita oltre che di pennelli di colori allora la mia scuola particolare nel senso innanzitutto sono tutte donne e questa è la mia fortuna perché porto avanti proprio quel discorso e guarda caso mi trovo poi poi ci dai un giudizio di perché più donne che uomini si avvicinano di più alla pittura ultimamente infatti beh allora ti accontento subito dicendo che secondo me la donna ha una marcia in più rispetto all'uomo per quanto riguarda la sensibilità la dolcezza la femminilità queste cose fanno sì che nell'arte arricchiscono quello che è il racconto il dipinto perché c'è questa gentilezza c'è questo intuito che l'uomo magari a volte è più rude racconta racconta il fatto nudo e crudo scarno e invece la donna ha in sé proprio questo questa femminilità che è un po un po romantica che poi romantica non è è donna chiuse basta no e no e mi sono trovato con una scuola con tutte donne e si è creato tra di loro e si crea che magari una va via ne torna un'altra ecco che tutti tutti loro si fanno intorno si fanno intorno la colgono addirittura danno consigli perché alcuni seguono grandi ma siccome anni addietro c'erano anche gli uomini soprattutto magari gli uomini maestri cosa hai notato di differenze in senso di unione che chi sono più unite le donne o gli uomini cioè c'è una forma tra virgolette di gelosia no che appartiene un po più all'uomo tra le donne questo emerge o meno no emerge meno tra le donne perché hanno proprio questo istinto di aggregarsi loro vengono anche magari questa sera dici c'è la scuola no andiamo scuola magari non dipinge perché ha voglia solo di socializzare che si è creato come una specie di clan c'è creato c'è aria di arte lì dentro no e quindi magari si siede vicino a questa poi vicino a quell'altra chiacchierano insieme ma no ma io sai farei così farei cosa però chiediamo al maestro una cosa l'altra e quindi si è creato un gruppo che dura ormai da è nata nel 2021 siamo nel 23 sono 22 anni no è andata sempre a crescere sempre di più ed è diventato un gruppo bellissimo perché ognuno si esprime a modo suo perché io non insegno in modo cattedratico a parte quello che è il disegno e la prospettiva i chiari scuri quelli lì una base la devi avere no ma al di là di quello poi dopo io li lascio dipingere e lascio fare un attimino quello che sanno fare e poi li studio e vado a cercare un tipo di pittura che potrebbe farsi per ognuno di loro quindi non è che tutti fanno il mio stile fanno realismo fanno cosa ognuno fa quello che si sente di fare nel migliore dei modi di quello stile e questa è una cosa eccezionale perché è una scuola che socializza e l'arte diventa uno strumento sociale uno strumento di comunicazione uno strumento di aggregazione ecco qua che l'arte non è più una cosa a sé stante e anche nelle mostre quando tu fai le mostre che viene tanta gente a vedere cosa dicono gli osservatori perché si crea immediatamente quel feeling come se uno si sentisse a casa cosa che non è così scontata in tutte le mostre io vedo mostre nude e crude e con tanta aridità al di là che posso vedere pareti ricchissime di colori perché questa differenza? Cosa c'è? C'è il rapporto umano? Cosa è l'elemento che fa la differenza? Allora se parli delle mostre che faccio con i miei allievi è una cosa nel senso allora vedono i quadri del maestro e vedono i quadri della scuola quella lì quel tipo di mostra funziona moltissimo perché diventa proprio chi entra si informa ma come mai dipingono così bene cos'è mai ma che bei quadri ma quanti stili e come perché e allora si informano come fare dove andare come l'ultima che ho presentato aveva iniziato a dipingere da ragazzina poi dopo ti sposi lasci per il lavoro e tutto quanto poi ha cercato una scuola ha cercato una scuola e su internet cosa trovi? Scuola di Don Giuseppe quello fa molto quello fa molto perché il nome è diventato oramai conosciuto quindi tu comincia a diventare conosciuto comincia a dimostrare chi sei che poi avrai un seguito e il seguito non può essere che il futuro di in questo caso mio di tante donne che stanno diventando pittrici a pieno titolo e hanno un loro seguito quando faccio invece le mie personali anche lì conta molto il nome se gira il nome sanno che tipo di pittura vanno a vedere c'è anche una certa selezione c'è chi viene a vedere perché piace quello stile e ci viene quello che viene proprio a curiosare per dire ma andiamo a vedere questo e quindi le mie mostre bene o male funzionano funzionano bene hai ragione tu purtroppo ci sono in giro tanti pittori che non hanno fatto scuola hanno iniziato da solo magari mettendoci il loro ingegno ma l'ingegno da solo non serve insomma la tecnica è molto importante è molto importante e io volevo farti una domanda più che altro chiederti un consiglio perché si dice che fin da piccoli bisognerebbe allenare un po' le mani e anche il senso della visione delle cose insegnando ad esempio a ricopiare eccetera ecco allora per il pubblico che ancora non è iscritto ai tuoi corsi quindi parlo dei ragazzini eccetera che consiglio potresti dare soprattutto magari ai genitori come iniziare fin da piccoli all'arte della pittura del disegno che poi diventerà magari da grandi una professione sì i genitori c'entrano moltissimo perché è il primo nucleo che il bimbo conosce in cui cresce e dovrebbero ogni genitore se capiscono che un bambino è fantasioso cercare di scoprire qual è la sua la sua indole e se comincia a scarabocchiare se comincia a fare la casettina se comincia a dire oh che bello quel disegno lo vorrei rifare dagli l'importanza portarlo avanti perché devi andare avanti nei tuoi studi normali ma portare avanti di pari passo quello che è il bello quello che è l'arte quello che è la cultura in modo che poi quando arriverai a una certa età che dovrai scegliere se hai sempre disegnato un pochino che hai questa cosa qua andrai a cercarti una scuola andrai a cercarti una scuola ufficiale o un maestro che gira nella zona che sia bravo che ti prende come allievo e ti porta fuori a conoscere quello che è l'arte e probabilmente diventerai magari anche un autodidatto un appassionato che però sarai comunque un bravo pittore sperando poi di trovare la strada che diventi un mestiere come lo è stato per me un'altra cosa allora si parla tanto di arte va bene per l'appassionato per quello che c'ha l'estro per quello che c'ha la indole per conto suo chi c'ha la passione ma si parla anche di arte come terapia tu cosa ne pensi? l'arte come terapia mettere in mano i colori a qualcuno in un momento particolarmente buio con la depressione che oggi stiamo vivendo e vedendo intorno a noi dilagare i colori quanto possono dare una mano? allora qua ti posso dire una cosa per me l'arte è pura terapia ma te lo possono dimostrare anche tutti i commenti che troverai quando io posto qualcosa su facebook o come sai le risposte che danno non sono il solito mi piace o che cosa si sfogano, commentano, dicono da loro e nella penultima presentazione che ho fatto di una mia allieva che ha fatto una mostra lì nel centro di Cantù proprio sul giornale c'è scritto che lei dopo aver avuto il figlio era andata in depressione e aveva bisogno di uscire da questa depressione qua cosa fare? tramite amicizie ha conosciuto la mia scuola sono dieci anni che viene ma viene, adesso lei è brava è molto brava è guarita da tutta la depressione e aspetta proprio il giorno di venire a scuola per socializzare, per dipingere, per stare insieme e questa è la prova vera e propria che l'arte veramente guarisce l'arte ti porta ad essere positiva ti porta ad essere anche combattiva, forte perché vuoi arrivare, vuoi fare ci metti l'anima, ci metti la grinta e probabilmente quasi sempre poi dopo ci riesce con l'aiuto di un maestro, con l'aiuto di tutto quello che vuoi però ci riesce e questo andrebbe insegnato e lo ripeterò sempre nelle scuole, le scuole ufficiali a partire dalle elementari in avanti mentre l'arte in musica siamo fermi al fischietto fra Martino Campanaro e quelle cose lì in arte trovi un artista che insegna nelle scuole medie e nelle scuole superiori? no, sono professori che leggono il testo sul libro e te lo spiegano ma di fatto non si potrebbe dedicare qualche ora come la si dedica alla matematica all'italiano, alla tecnica, alla scienza non si potrebbe dedicare due ore alla settimana con cavalletto alla mano, foglie alla mano e fare che questa diventi una materia per la scuola l'arte l'arte in genere due ore di musica, due ore di pittura due ore di quello che vuoi io penso che se ci fosse questo spazio nell'ambito scolastico la società sarebbe di gran lunga migliore sarebbe molto più rilassata e verrebbero coltivate e allenate quelle corde vitali intime di ognuno che sono quelle che ci fanno tolgono le spigolature tolgono le sbavature e rendono più morbidi più accettabili e rendono uno sguardo più ampio e più dolce e più positivo io sono fortemente convinta di questo vorrei dire che quando nell'ultima guerra che c'era il duce in Italia e c'era quel poveraccio là in Germania avevano vietato ai pittori di fare quello che volevano loro proprio per non diffondere attraverso la pittura delle cose che non andavano bene è verissimo quello che tu dici scusa anzi se mi intrometto perché in realtà la pittura ha questa capacità che non solo di raccontare la verità mentre la realtà è una cosa che tutti magari possiamo anche sentirla o vederla la verità è una dote che appartiene principalmente a quest'arte che è la pittura non so se sei d'accordo sì 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 no d'accordissimo è quello che stavo dicendo io infatti l'ultimo stile italiano è proprio quello mussoliniano quello imperiale le colonne alte le case tutte a forma di cubo cioè che richiamano lo stile quello imperiale perché 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 quello era imposto mentre il pittore è libero l'artista è libero il musicista è libero e attraverso la sua arte può andare a dare messaggi contrarie a quello che era la dittatura ecco perché l'arte salverà il mondo come abbiamo detto in partenza è solo la cultura è solo l'arte un acculturato un artista non andrà mai a fare qualche disastro adesso sento decapitazione di bambini ma ti pare che un artista ti possa andare a fare una roba del genere un musicista che suona che faccia pure rock ma che faccia musica classica qualcosa vada a fare la guerra vada a fare il deficiente ammazzare le persone per cosa? per chi? siamo qua tutti per vivere siamo qua tutti per vivere al meglio di quello che possiamo fare allora ritorniamo alla zona Castelfidardo un pittore che viene da Brenna e a Castelfidardo si è concluso di recente il corso che tu hai fatto con degli allievi qui a Castelfidardo perché ti hanno richiesto tanto attenzione adesso non vogliamo sapere le pagelle però però anche qui anche nel gruppo di Castelfidardo in cui hai insegnato hai portato delle lezioni sia i pittori che anche quelli non pittori vengono volentieri sono venuti tutti volentieri in quelle serate perché si è creata un'amicizia si è creata uno stile confidenziale perché c'è anche un maestro appunto gli esperti va bene quelli che amano dipingere hanno avuto un sacco di suggerimenti tecnici anche sulle loro tele eccetera gli altri e tutti insieme hanno avuto l'amicizia hanno avuto una filosofia di vita c'è stato uno scambio amichevole di tanti punti di vista ecco e allora volevo dire questa scuola che hai questo corso che abbiamo messo in piedi a Castelfidardo che si è appena concluso è dello stile di quello di Brenna quindi possiamo dire che hai esportato da Brenna a Castelfidardo l'arte sì io cerco sempre di portare nei miei corsi di pittura quello che ho detto prima della mia scuola Brenna Brenna si trova in provincia di Como e vengo a Castelfidardo già oramai da cos'è 12 anni credo che abbia la cittadinanza la cittadinanza onoraria anche perché i pittori ti aspettano ogni anno ha lasciato alla città di Castelfidardo due tele molto belle tra l'altro per la futura pinacottata qua ad Osimo reclamiamo vendetta perché come dire due belle tele così insomma vabbè comunque abbiamo la radio che potrebbe diffondere questo messaggio Osimo ce ne sono molti di Osimani che ti seguono lo sai questo lo so e si anche qui a Castelfidardo Castelfidardo porta avanti lo stesso discorso cercare di scoprire il quello che hanno fatto fino adesso trovare gli errori cercare di migliorarli ma spiegando anche lavorandoci sopra il quadro in modo che loro se io glielo spiego e basta loro vanno a casa e ripetono lo stesso errore perché cercano sì hanno capito il concetto ma poi non c'è farlo non c'è la praticità no allora mi ci metto io e lo correggo in diretta allora che l'allievo il pittore vede la costruzione vede la pennellata vede che uso quali colori uso come che pennellata do che sfumature do qui ci vuole la luce sì ce ne è ma ce ne vuole di più questa la parte in ombra perché il sole arriva di là perché la luce arriva di là cioè tutti questi discorsi qua fanno sì che chi c'è a partecipare e poi anche tra di loro si scambiano le idee vedono sul quadro come funziona la cosa e praticamente imparano ma proprio praticamente oltre al dialogo oltre a spiegare la tecnica oltre a spiegare dove c'è l'errore e tutto quanto e in più si crea proprio questa amicizia questo scambio anche tra di loro poi vanno a fare mostre vanno a fare concorse e tutto quanto si ritrovano di nuovo e riprovano le esperienze che hanno imparato insomma è carburante puro per mettere in moto la creatività di ogni persona che ama la pittura ama ovviamente imparare una tecnica ancora più raffinata di quella propria e soprattutto lega in senso pieno dell'amicizia con Giuseppe Donghi questo maestro di pittura che noi ogni volta ospitiamo davvero con il cuore aperto perché ci racconta ci insegna tante cose grazie davvero è terminata qui purtroppo la puntata Maria ma siamo sicuri che prima o poi insomma lui passerà da queste parti tra i tanti impegni e ci racconterà davanti ai nostri microfoni sicuramente grazie grazie